Luca Roman qui a Vairano inizia questa preparazione per arrivare all'Olimpiadi in tempo e messi bene come sta la tua preparazione? La preparazione procede bene il cavallo sta molto in forma questa è la prima uscita un po' più impegnativa diciamo della stagione ho fatto qualche rettangolo qualche dressage qualche concorso 1 a 4 per rientrare a Torre di Quinto ho fatto solo un rettangolo per ora il cavallo è andato abbastanza bene e ho commesso un paio di errori più io del cavallo però possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti finora. Alle spalle hai un papà con una medaglia d'oro al collo olimpica bosca dell'80 come ci si prepara a partecipare a una gara così importante, a una manifestazione così importante? Allora, intanto sì ci si prepara perché poi ci si prepara per andare è un'altra storia però devo dire la verità pensavo fosse più semplice fino a qualche anno fa e la vedevo come una cosa non scontata ma che prima o poi sarebbe arrivata nella mia vita avvicinandomi mi rendo conto che è molto più complicato di quello che in realtà può sembrare o uno poteva pensare, si devono incastrare tante cose soprattutto per chi come me ha un cavallo a questo livello per cui devo incastrare il mio momento, il momento del cavallo, le ultime gare il fatto che rimanga sano fisicamente sia lui che io per cui una volta avvicinatomi a questa data mi rendo conto che non è così facile e ci tengo, cioè nel senso vediamo che succede Ancora un po' di gare e poi la short list come la pensi? Come pensi che possono essere i cinque papabili? Beh intanto non sono cinque purtroppo perché la squadra non è qualificata ma ci siamo qualificati con dei posti individuali per cui i posti saranno tre siamo in sette in questo momento e credo che tutti e sette saremmo in grado di poter fare una buona gara per cui sarà la condizione fisica del cavallo e queste ultime prestazioni a decidere poi chi va Fra i sette c'è anche tuo fratello C'è anche mio fratello, sì È chiaro che se dovessi decidere io il sogno sarebbe di andare insieme a mio fratello quello sarebbe un sogno però vediamo, quello che avviene accetteremo Grazie, complimenti Grazie a voi Grazie a voi